Non esiste perché io non ho bisogno, ne ho dei soldi, non di niente comunque, sono figlio di contadini e ne sono orgoglioso, quindi se io ho dei soldi, mi andai alla moneta sofferendo, non mi mando come dicono solo ai carcerati, potete vedere nei carceri, faccio i vagli tutti i giorni a delle bambine, ai bambini, forse perché ho bisogno di affetto, non lo so. Cutolo era un uomo, era, ma quando io lo conobbi era un uomo che aveva un suo fascino sinistro, ma aveva un suo fascino, il mio primo ed unico incontro con lui iniziò con un fender de non resevoir da parte sua, mi disse ho ricevuto una lettera da un mio associato che mi dice che voi siete un fetente e che con voi è meglio non parlare. Ed io stavo riprendendo le mie carte per andarmene, quando lui dice però se vuole restare come opera caritativa vi faccio vedere la mia produzione letteraria. E io dissi vabbè, sono qua, non perdo niente. Iniziamo a parlare, uscì dal carcere a mezzanotte con 18 pagine di verbali. Siamo ad Ottaviano e questo è il castello Medicio. Questo è stato il quartier generale di Cutolo, della sua famiglia, dei Cutoliani. Per la verità Don Raffaele qui ha vissuto soltanto pochi mesi, invece c'è stata per tanto tempo la sorella Rosetta. E qui era un continuo via vai di persone e anche di politici che venivano a chiedere i voti. Don Raffaele era fatto così. Gli piaceva ostentare il suo potere e la sua ricchezza. Uno come lui non era tipo che potesse vivere in una casa normale, per quanto comoda e magari con i rubinetti d'oro. No, per Don Raffaele Cutolo, o professore, il fondatore della NCO, la nuova camorra organizzata, da 50 anni seppellito nelle patrie galere, ci voleva qualcosa di più grande e di più sontuoso. Un castello. Che poi questo castello, a volerla dire tutta, rappresentava la sua rivalsa sociale. La sua rivincita sulla vita, che lo aveva visto nascere figlio di un umile agricoltore di Ottaviano, che proprio ai piedi di quel castello coltivava un pezzetto di terra agli albori dell'immediato dopoguerra. E Raffaele accompagnava il padre e guardava il castello, maestoso e irraggiungibile. E quella castellana che si atteggiava a padrona del vapore. Lo voleva quel castello e quando divenne potente lo comprò, per 280 milioni di lire nel 1980, più o meno un terzo del valore reale dell'intera tenuta. In buona sostanza, Raffaele Cutolo fece una di quelle proposte che non si possono rifiutare all'ultima proprietaria, la nobile donna Maria Capece Minuto, e coronò così il suo sogno da ragazzo. Dalle falde della bocca più antica del Vesuvio, don Raffaele sognava di conquistare non solo Napoli, ma tutta la Campania. La nascita della sua organizzazione, la NCO, segnerà in modo indelebile la storia moderna della Camorra. E non certo in me. La nuova Camorra organizzata, che ha la grande responsabilità di essere stato il Tarlo, che ha veramente inquinato nei decenni successivi quella che è stata la vita di una regione, nasce, si costituisce, oltre che nella contrapposizione ai siciliani, proprio nella pretesa di ottenere una tangente sulle casse di sigarette che i siciliani scaricavano nella zona di San Giovanni a Teduccio. Dall'avvento di Cutolo, a metà degli anni 70, fino ai primi anni 80, a Napoli e provincia, ma in tutta la Campania, si conteranno più di 800 morti ammazzati nella guerra tra cutoliani ed esponenti della nuova famiglia. Un cartello di clan camorristi, storici, appoggiati da Cosa Nostra Siciliana, che si opponeva alle mire espansionistiche del professore. Ci fu un anno nell'82 dove si superarono i 250 morti, dovuti alla faida tra Cutolo e alla nuova famiglia, insomma. A Ottaviano però ci fu una grossa parte, penso che siamo sull'ordine di una quarantina. Però i clan... 91 città. Sì. Caddero in tanti ad Ottaviano, compresi i parenti del bus. In questa piazza si è conclusa l'epopea dei cutoliani. In questo posto, dove adesso c'è la macelleria, prima c'era una sala da barba e qui dentro venne ucciso Salvatore Iacone. Chi era Salvatore Iacone? Era il suocero di Raffaele Cutolo. Lo uccisero proprio mentre si stava facendo fare la barba. Ma la grande ferita di Cutolo, uomo, fu l'uccisione del suo primo genito Roberto, raggiunto e ucciso davanti ad un bar di tradate vicino a Varese, con dieci colpi di pistola da killer calabresi su richiesta della nuova famiglia, gli avversari di Cutolo. Questo è suo figlio? Sì, mio figlio. Buongiorno. Che cosa, che avvenire augura suo figlio, signor Cutolo? Che avvenire augura tutti i padri onesti, come già lo devono vedere qui dentro, con i 100 anni. Quando lo uccisero, Roberto aveva 28 anni e 27 mila lire in tasca. Non se la passava bene e voleva dare un taglio al passato e a quel cognome di piombo. I soldi gli rimandava sua madre, la prima moglie di Cutolo, Filomena Ligori. Un altro colpo per Don Raffaele fu l'eliminazione del suo amico e braccio destro fidatissimo, Vincenzo Casillo, saltato in aria nella sua macchina nei pressi di Forte Boccea, a Roma, a due passi dalla sede dei servizi segreti. Casillo aveva con sé un tesserino dei servizi e aveva partecipato alle trattative per la liberazione dell'assessore regionale Ciro Cirillo e dalla titante entrava e usciva tranquillamente dalle carceri italiane. All'esecuzione di Casillo, detto onirone, assistette la sua fidanzata Giovanna Matarazzo, una ballerina di night club conosciuta col nome d'arte di pesca vellutata. La donna, qualche tempo dopo, venne sequestrata, uccisa e fatta a pezzi. Al processo per l'uccisione di Casillo, Don Raffaele, che è imputato, parla così del suo amico. Sì, Presidente, io sono in carcere da 26 anni. Ultimamente ho preso qualche 10 al gasto, quindi la mia vita deve finire in carcere. Però non desidero pagare, per la morte dell'amico è mio più carico. Ripeto, tutti mi hanno detto che è stato un incidente. Se poi è un omicidio, dovresti domandare a un certo apparato dello Stato che gli ha rilasciato la testa dei servizi segreti e che entrava in tutte le carceri italiane. però tutti mi hanno detto che è stato un incidente. Dato il nome del popolo italiano, la corte da sede di Roma, visto l'articolo 479 del codice procedura penale, assolve Cutolo Raffaele, Cutolo Rosette e Puga Giuseppe dall'imputazione di loro scritta per non aver commesso il fatto. l'udienza è tolta. Avvocato, comunque, è una grande... Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi, state benvenuti. La ringrazio, la ringrazio a tutti. La ringrazio a te, grazie. Avvocato, grande battaglia. Ha diventato un partito. Ha diventato un partito, è un partito, non ci dico. Ha diventato un partito, è un partito, è gollito. È la verità, comunque, è stato un grande contributo veramente. Avvocato, poi c'è... Vabbè, è un partito, sai come se vi chiamo? Mi sono c'è. Sì, è il primo è la... Ha detto il maestro, dobbiamo fare la squadra. La squadra, sì. Poi ci vediamo la caccia. Eh, la posso. Caddero in tanti ad Ottaviano camorristi e uomini delle istituzioni, come due onesti e battaglieri consiglieri comunali, Pasquale Cappuccio, socialista, ucciso nel 1978, e Mimmo Beneventano, assassinato due anni più tardi davanti casa. Io fui svegliata dalle grida di mia madre, perché stavo dormendo, e scesi qua e trovai il corpo di mio fratello, che per me era una roccia per terra. Gli allentai la cravatta, pensando che non riuscisse a respirare, ma non c'era più niente da fare. Lui venne ucciso, morì qui, su questa strada. Sia Pasquale che Mimmo si opponevano in consiglio comunale e nelle piazze alla speculazione edilizia che la camorra cutoliana si apprestava a compiere in quella zona attorno al castello, in quello che oggi si chiama Parco del Vesuvio. Allora si voleva costruire dei centri residenziali, si parlava di centri sportivi e così via, questi territori e poi questi terreni che poi in realtà circondavano quello che era il castello comprato da Cutolo. Oggi il castello Medicio è tornato al comune amministrato da un sindaco avvocato penalista che ha reso fruibile a tutti questi spazi di bellezza. Ma per anni, come in una favola nera, il castello ha rappresentato il simbolo del potere camorrista. Adesso con queste chiavi vi porto in un altro luogo particolare. Queste erano le scuderie del palazzo nobiliare. Vediamo se riusciamo ad aprirlo perché non è semplicissimo. Eccoci. In queste che erano appunto, come vi dicevo, le scuderie, qui aspettavano le persone che dovevano parlare con Don Raffaele, ma erano decine, centinaia ogni giorno e per ognuno di loro Don Raffaele aveva o una buona parola o un posto di lavoro o la 50.000 lire, come si diceva all'epoca. Ecco qua. Aspettavano e poi venivano chiamati e arrivavano al cospetto di Don Raffaele, ma molto più spesso di sua sorella Rosetta. Mio fratello ha già seguito da 20 anni e sto sempre dietro mio fratello. Mio fratello è abituato a fare sempre delle cose belle e tutt'ora fa cose belle. Lei mi diceva se uno deve chiedere un piacere a suo fratello. Chiede a mio fratello. E mio fratello, giustamente, si rivolge a chi fa piacere. Ma la stessa cosa, ha aiutato una signora che si aveva posto per il mio marito. E mio fratello ha scritto a persone incaricate e ha fatto i miei posti. Oggi Ottaviano è una cittadina come tante dove il potere che un tempo fuori di Don Raffaele è passato nelle mani di altri. E la musica è sempre la stessa. I soldi si fanno controllando le piazze di spaccio e con il vecchio, caro e mai ripudiato calcestruzzo. Oggi, soprattutto i Fabrocino, hanno subito già diverse operazioni proprio perché imponevano alle ditte del territorio e anche oltre i confini della provincia di Napoli un calcestruzzo creato da aziende loro in cui avevano ripulito soldi e che ovviamente non poteva essere di ottima fattura anche perché veniva ad un prezzo bassissimo rispetto alla concorrenza. L'ultima boccata di libertà utilizzando il falso nome di Prisco Califano era durata appena un anno dall'evasione dal manicomio criminale di Aversa nel 1978 con i picciotti che usarono la nitroglicerina per aprire una breccia nelle mura dell'istituto e liberare il loro boss fino all'arresto nel 1979 nei pressi di Salerno. Ma la carcerazione non l'ha piegato. Non so come abbia fatto e tuttora abbia forza per resistere ad un isolamento che perdura da 35 anni. Cioè lui da 35 anni non vede nessuno in carcere solo le guardie carcerali isolamento totale la polizia penitenziaria la polizia penitenziaria lei pensi che quando io andavo a trovarlo a Belluno mi si chiedeva di andare di domenica proprio perché nel tragitto dalla cella alla sala colloqui non incontrasse nessuno invece durante la settimana magari poteva incrociare uno sguardo con qualcuno totale isolamento totale isolamento totale isolamento Quanti ergastoli è stato condannato? 14 se non ricordo male 14 ergastoli 14 ergastoli ma credo un record man credo quasi come Totò Rina più o meno siamo lì credo di sì ma ci tengo anche a precisare che in decine e decine di processi è stato assolto sì certo il carcere è stato il suo regno negli anni 80 in carcere fondò la nuova camorra organizzata affidiando i detenuti dal carcere ordinò delitti e vendette e gestì gli affari miliardari del terremoto in Irpinia in carcere decideva chi doveva essere il sindaco di Ottaviano e invece fece uccidere quello di Pagani Marcello Torre dando seguito alla stagione dei delitti politici che era stata inaugurata a Palermo con l'omicidio di Persanti Mattarella a me non è stato mai camorra a me è un ideale di vita la ripeto poi la camorra l'antranca della mafia è tutta un'altra cosa ma la mafia sta a Roma la camorra sta a Roma la vera camorra sta a Roma in carcere sposò l'attuale moglie immacolata Iacone in carcere ha concepito tramite il prelievo del liquido seminale la sua secondogenita non fu semplice infatti l'autorizzazione al prelievo comportò l'autorizzazione all'ingresso in carcere di un chirurgo di un urologo di personale medico che io accompagnai al carcere di Belluno e poi questo personale autorizzato dal direttore del carcere erano tre medici procedetero al prelievo così come da autorizzazione poi si uscì dal carcere e c'era la signora immacolata che attendeva con delle bombole di idrogeno per congelare il liquido così come era stato prelevato bombole di idrogeno che per ovvi motivi di sicurezza non potevano fare ingresso all'interno del carcere è una cosa bellissima per una donna avere un figlio è una cosa stupenda e anche per chi no avere mio marito vicino e sempre in carcere don Raffaele ricevette la visita dello Stato era l'aprile del 1981 e uomini dei servizi segreti e politici varcarono il portone del carcere di Ascoli Piceno per chiedergli un favore ad operarsi per ottenere la liberazione dell'assessore democristiano Ciro Cirillo che era stato sequestrato dalle Brigate Rosse a Torre del Greco Cirillo venne liberato dietro il pagamento di un riscatto ma Cutolo non ottenne le contropartite che si attendeva anzi per tutta risposta lo Stato lo spedì nel supercarcere della Sinara che venne riaperto per lui e dove rimase a lungo l'unico detenuto però gli uomini come me sono condannati a non cambiare comunque perché mi tengono sempre in questi punti sono l'unico detenuto in Italia non da diretti il 41 bis vanno lo stesso a Passeggio di Comagna io sono totalmente isolato dal 19 febbraio del 1982 da quel momento il silenzio ha parlato per lui 50 anni di carcere senza mai dire una parola significativa un sussulto ogni tanto che assomiglia tanto ad un divertimento se parlassi io cadrebbe l'attuale Parlamento potrei dire delle cose sul sequestro e l'uccisione di Aldo Moro ha detto ultimamente dichiarazioni già rese alcuni anni fa al PM oggi sostituto procuratore generale Otello Lupacchini Cutolo sosteneva di essere stato incaricato dalla democrazia cristiana tramite un suo avvocato di individuare la prigione di Moro e l'aveva individuata? la prigione venne individuata e chi di dovere venne informato di dove potesse essere la prigione di Moro intendendosi per tale il covo di via Montalcini dopodiché però data questa notizia raccontò Cutolo e nessuno mi disse più nulla anzi un mio associato in questo caso si trattava di Casillo mi disse Don Raffae è meglio che ne stiamo fuori da questa vicenda perché è molto pericolosa e liberare Moro non interessa a nessuno ogni volta si ha la sensazione che Don Raffae giochi come il gatto con il topo ma che in realtà non abbia alcuna intenzione di pentirsi arrivare a questo punto non si pentirà più non penso che ne abbia alcuna intenzione di farlo è legato purtroppo a quel vecchio stile camorristico dove il pentimento era un disonore enorme coloro che intendono collaborare con la giustizia e ne hanno ovviamente ampia facoltà lo fanno perché intendono patteggiare con lo Stato o benefici penitenziari enormi Cutolo non ha mai scelto questa strada non ha scelto mai la strada del compromesso la prigione ha cambiato qualcosa in lei? ma io sono sempre lo stesso sono sempre le stesse idee semmai io devo dire che spalsimità si stava al meglio quando si stava peggio ma di certo Cutolo di cose ne sa tante e le sue dichiarazioni potrebbero ancora far paura a qualcuno non so se ci siano molti che possano ancora aver paura di quello che lui sia in grado o possa ancora raccontare indubbiamente a mio avviso se ce ne fossero ancora rischierebbe molto con queste dichiarazioni se effettivamente avesse qualcosa da raccontare ancora ma Don Raffaele fu anche il primo a sperimentare il fascino che la camorra e i suoi riti esercitano sui giovani e sui giovanissimi ne affidiò tantissimi e ne morirono tantissimi altrettanti vennero arrestati e verrebbe da dire che la storia si ripete se 40 anni dopo troviamo ancora giovanissimi a fronteggiarsi per le strade di alcune zone di Napoli con le armi in pugno da vicoli come questo nel cuore di Forcellano dei quartieri difficili di Napoli partono le cosiddette paranze queste bande di ragazzini che sparano per strada i ragazzini sono sempre stati attratti dalla camorra fin dai tempi di Cutolo e dei suoi avversari e ne morirono tanti anche negli anni 80 e negli anni 90 il questore della città Guido Marino è uno sbirro di grande esperienza e coordina una squadra dalle volanti alla mobile estremamente affiatata e composta da ottimi professionisti Marino per i suoi trascorsi conosce bene la mafia e i mafiosi quello che accade oggi a Napoli negli anni 80 dice sarebbe stato impensato io mi ricordo un mafioso che abbia che abbia fatto lo sceriffo in mezzo alla strada per terrorizzare la gente o per marcare il territorio o per imporre la sua legge con il risultato di attirare in quel territorio più polizia più carabinieri da ultimo più soldati e quindi con qualche difficoltà in più a muoversi fino a qualche anno fa noi siamo stati abituati a confrontarci con una camorra che aveva il senso delle cose cioè sapeva che alzare la tensione il livello di violenza per le strade determinava delle conseguenze una reazione dello Stato certamente e quindi era in grado di riflettere e di astenersi dal commetterlo oggi tutta questa capacità di riflessione è venuta completamente meno e ci troviamo di fronte a soggetti che sono imprevedibili caratterizzati da una straordinaria violenza e quindi particolarmente pericolosi per la collettività sono sganciate dalle connessioni politiche non c'è alcun rapporto però c'è un grande hanno questi ragazzi hanno un grande target di riferimento diverso dalla politica che a mio giudizio è quello decisivo più della politica è il mondo imprenditoriale è il mondo imprenditoriale quando questi ragazzi vanno a chiedere il pizzo in quel momento ricevono la legittimazione dell'operatore economico la legittimazione del commerciante la legittimazione dell'imprenditore in quel momento dell'acquiescenza dell'operatore economico il loro radicamento diventa una realtà e non sono più gang ma sono clan ragazzini in azione non solo nelle strade di Napoli qui siamo ad Agerra in piazza Falcone e Borsellino e questa è la scuola media Gaetano Caporale qui pochi giorni fa non più di una settimana fa due ragazzi a bordo di un motorino con i mitra in pugno hanno seminato il terrore davanti alla scuola forse cercavano di entrare per sequestrare la figlia di un boss che avevano tentato di uccidere non c'erano riusciti fatto sta che i genitori e alunni sono rimasti a lungo barricati qua dentro i nostri collaboratori non volevano farci uscire per paura ma quindi com'erano i motorini con gare con i mitra e il passamontagna con i mitra e il passamontagna erano con i mitra e con il costo quanti erano? due due su un motorino ripeto per tutti zona foccella zona quartieri zona monte calvare abbiamo da ricercare una torota haicù la torota haicù non abbiamo il colore la targa a bordo vi dovrebbe essere una donna in stato interessante ripeto donne in stato interessante probabilmente a nome di Valentina Giuliano ripeto a nome di Valentina Giuliano appartenente alla famiglia Giuliano di Forcella la quale porta trasporta armi da Forcella a zona quartieri per consegnarle successivamente a personaggi malavidosi di Forcella i quali poi dovrebbero esplodere dei colpi d'arma da fuoco per atto intimidatorio nota per tutti camici bianchi silenzio e concentrazione ecco la centrale operativa della polizia di stato a Napoli la segnalazione che avete appena sentito riguarda una donna esponente del clan Giuliano di Forcella che starebbe trasportando delle armi verso i quartieri spagnoli probabilmente per una rappresaglia Michele Spina capo delle volanti per anni commissario a Secondigliano e a Scampia ci dice che la segnalazione dell'auto è arrivata con una telefonata anonima e come tale va presa con le pinze andiamo a Forcella per capirne di più si ho ricevuto ma com'è quella situazione interrogativa positiva? tocco siamo ancora in accertamento e poi c'è accertamento qua ora noi stiamo andando a Forcella a controllare quella situazione che abbiamo sentito giusto in sala operativa che mi sembra abbastanza un allarme insomma perché se c'è una macchina con te se è vero si ma spesso vengono fatte comunicazioni anonime di questo tipo che vanno tutte verificate ma non necessariamente sono poi veritiere veritiere certo ciao ciao come va? gli abbiamo diramato le ricerche le pattuglie hanno cercato e stanno ancora cercando ma fino ad ora non c'è traccia di questa macchina non è successo non l'abbiamo trovata no la segnalazione era verissima l'auto viene ritrovata due giorni dopo con diversi colpi di pistola sulla carrozzeria ma chi sono questi giovani protagonisti di paranza estese come vengono definiti questi raid a mano armata quattro imbecilli incapaci anche di dire il proprio nome e cognome questo è il punto sì perché poi quando ce li avete davanti vi rendete conto che sono oggettivamente niente sono decerebrati completamente cioè quanto la droga incide in questo parecchio parecchio incide la droga e chiaramente incide poi un sistema normativo che francamente meriterebbe qualche riflessione approfondita ma la solita storia voi li mettete in carcere dopo due settimane dopo due giorni sono fuori questo è il tema ma nel caso di minorenni avviene anche di peggio perché abbiamo a che fare con un sistema normativo che tutela secondo me anche in misura eccessiva il minorenne e fin lì ci può anche stare ma libera da ogni responsabilità proprio svincola da ogni da ogni onere il genitore di quel minorenne cioè non gli chiede conto e ragione di nulla quindi che facciamo li togliamo questi ragazzini i genitori o costingiamo i genitori a occuparsene ma come gli abbiamo gli strumenti legislativi per fare questo dal mio punto di vista qualche qualche al genitore che manifestamente incapace o indegno di fare il genitore il figlio va tolto secondo me io riesco ad andare avanti proprio perché non mi porto nessun senso di colpa perché i miei figli li adoro e e l'ho sempre guidato nella nella via giusta se un ragazzo non va a scuola quindi verrà denunciato no se diciamo se un papà non sta in grado di quindi ci sono competenze altrove come l'assistenza sociale altre altre situazioni no lui è uno degli ultimi venditori di sigarette per strada si chiama Salvatore e mi ricorda che ci siamo conosciuti oltre 20 anni fa in casa di Loigino Giuliano durante un'intervista all'allora boss di Forcella lui all'epoca era poco più che un bambino come quelli che oggi sparano per le strade ma lui non ha mai ucciso ha commesso altri reati ed ha pagato il suo debito con la giustizia con 14 anni di galera sulla questione figli risponde come non ti aspetti come io sono mio padre per esempio i miei figli per me anche i genitori sono fatti così perché si vede a mio figlio una mattina che scena e porta 1000 euro a casa io dico vicino a mio figlio dove la veste questa 1000 euro certo se mio figlio non dico niente domani porto 2000 euro e mio figlio è un canno sciotto certo quindi tu dipende molto dai genitori dalle famiglie sì perché se mio figlio fa una cosa io lo vengo a sapere mio figlio certo e cerco a mio figlio come facci tirare di dire perché non devo soffrire pervenire sull'aspetto delicatissimo della patria potestà rischierebbe addirittura di essere un boomerang ci ha insegnato Sciascia e per fortuna che ce lo ha insegnato che la mafia si vince sul terreno del diritto bisogna oppore la forza del diritto tu non puoi guai se dai la sensazione di essere come loro se dai questa sensazione alimenti il consenso sociale della mafia cerchiamo di metterli però in condizione di andarci a scuola e non dover lavorare per doversi mantenere a non dover vivere in un quartiere che scuola non ne ha a non dover fare molti chilometri per andare a scuola a non andare in scuole fatiscenti con un'edilizia scolastica che ha i minimi storici cerchiamo di intervenire su questo e secondo me sarà l'ora che la città potrà mettersi al pari dell'altra parte della città che invece registra un boom turistico straordinario che invece registra il massimo delle presenze dall'estero in ogni festività perché anche questo esiste tutto vero ma è altrettanto vero che la collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine è spesso deficitaria in un caso di omicidio il primo sforzo investigativo è finalizzato ad individuare un testimone non l'autore dell'omicidio e tutto questo è deprimente ma lo spieghiamo perché vuol dire non c'è mai un testimone uno che dica semplicemente erano in due ore ne in tre esattamente esattamente questo esattamente questo cioè a dire stiamo parlando dell'inizio di un'indagine cioè erano in moto piuttosto che erano in macchina erano in due piuttosto che erano in tre questo tipo di contributo che mi sembra davvero il minimo sindacale da parte di un cittadino che pretende di essere tale insomma io credo che bisognerebbe aspettarselo da una città che ha ampiamente dimostrato di avere mille risorse e di non avere come un obbliggetto da visita questi quattro rifiuti umani che vanno sparando ci sono alcuni fatti più gravi su cui non si transige e là è giusto denunciare assolutamente dipendentemente dal contesto tu denunceresti? personalmente sì io penso che denuncerei però non mi sono mai trovato in una situazione del genere quindi adesso magari posso dire di sì poi trovandomi ci potrei cambiare opinione però sì comunque penso denuncerei sostengo che l'avversione in un certo senso viscerale che c'è in ampi settori della città non necessariamente settori camoristici anche di settori di indifferenti di persone per bene nei confronti delle forze dell'ordine costituisca una vera e propria patologia quindi noi rappresentiamo Napoli in un certo modo però poi la gente continua a venire continua a venire a visitare questa città ad apprezzarne le bellezze la cultura è una contraddizione o sono tutti pazzi autolizionisti che vanno incontro a morte certa per rapine scippi ferimenti o cose del genere oppure vedono qualcosa che i media spesso e volentieri non vogliono far vedere siamo davanti al consiglio regionale della campagna e come vedete la facciata principale del palazzo ma anche quelle laterali sono costellate di fotografie delle vittime innocenti della camorra sono decine e decine e anche nell'anno appena trascorso nel 2015 sono morti dei giovanissimi tutto questo viene fatto per non dimenticare è stato ucciso per sbaglio per una pallotta lavaganda per diciamo per questi raid che non si sanno cosa vogliono questi sciagalli vogliono intimorire i quartieri vogliono intimorire la città non si può perdere un figlio per rimanere un'ora in più in piazza Antonio Cesarano è il papà di Gennaro detto Genni 17 anni e tutta la vita davanti l'hanno ucciso in piazza della sanità il 6 settembre dello scorso anno colpito da pallotto le esplose da quelle che vengono chiamate le stese gruppi di giovani che a bordo di grossi scooter sparano all'impazzata per affermare la propria supremazia criminale in questo o in quel quartiere l'unica colpa di Genni è stata quella di essersi attardato in una calda serata di settembre a chiacchierare con gli amici nella panchina di fronte casa non lo voglio accettare pure questo posto per me è un ricordo tremendo perché mio figlio si è cresciuto in piazza stava a 100 metri di casa mia non faceva parte dei minori a rischio quasi parlavo che mio figlio andava a scuola era un ragazzo seguito e noi non ci diamo non ci diamo pace noi abbiamo perso tutta la nostra vita non una metà tutta la nostra vita Genni è stato ucciso in settembre ed era una promessa del calcio come Davide Bifocco ucciso anche lui a settembre ma dell'anno precedente da un colpo esploso dalla pistola d'ordinanza di un carabiniere al termine di un inseguimento sono uscito con i documenti sono andato sul posto e ho trovato mio figlio a terra morto e un carabinire dicevi ma che l'avete fatto perché poi mi sono ginocchiato e cercava di scuola di scuola Davide Davide però era capito subito tutto al militare la procura di Napoli ha contestato l'omicidio colposo il processo si è concluso 48 ore fa ed ha visto la condanna a 4 anni e 4 mesi del carabiniere che ha ucciso Davide non si tratta del massimo della pena per questo tipo di reato per i genitori di Davide si trattò di una vera e propria esecuzione se tu guardi da un motorino la prima cosa che fai che fai istintivamente cerchi di alzare per vedere che ti hai fatto allora il bambino stava così vedi quando si è alzato stava così così in questa posizione quando ha fatto così evidentemente i genocchi che faceva male non voleva e così è rimasto una botta ma che ha fatto di male c'è questi blocchi inciampati e rullati tanto sui motori cioè mio figlio non guidava motori non era il suo stava in mezzo come dicevano in via radio equabile in mezzo in mezzo quello ammazzato comunque ammazzato quello di mezzo che era mio figlio il dolore identico di queste due famiglie ha prodotto frutti frutti isperati con la nascita di due associazioni per volere dei genitori il popolo in cammino alla sanità e Davide vive a Soccavo ai campi fregherai noi abbiamo un obiettivo è questo di fare interrogare ai ragazzi piccolini nel senso io non ho avuto questa possibilità e forse ho fatto qualche piccolo errore perché nessuno mi ha steso la mano a dire questa è la strada giusta perché c'era tanta precarietà tanta cosa la famiglia volevo studiare non ho avuto possibilità perché non mi poteva mantenere agli studi e né tanto meno ho avuto qualcuno come associazione che stavano a ridosso a dare una mano ai giovani io sarò in primo piano per dire basta e far sì che questo martirio poi serve e serve soprattutto per chi rimane perché i tre punti che ci diamo su questa pertenza è di scuole aperte sicurezza di telecamere si chiedono cose sociali perché questi quartieri hanno bisogno di un po' più di attenzione lo Stato deve investire su questi posti io non sono uno di quelli che quando viene ammazzato un appartenente a un clan dice vabbè si ammazzano fra di loro questa è una cosa terribile quindi io non faccio distinzioni tra morti interni e morti esterni tra morti innocenti e morti colpevoli una morte è una morte è comunque una ferita sociale di cui dobbiamo assumerci tutti la responsabilità 30 giorni in giro per Napoli la città mondo per dirla con De Giovanni una città con mille facce come è noto e come vuole lo stereotipo una città dove si spara ma dove ci si aggrega per trasformare quegli spari in musica io penso che la cultura debba essere il rimedio debba essere la nostra arma a differenza degli spari e delle pistole la nostra arma deve essere la cultura per difenderci da chi ci vuole opprimere e da chi appunto cerca di non farci credere nei nostri sogni dobbiamo crederci perché veramente è l'unico modo per poterci realizzare personalmente questa è una cosa molto brutta che sparano a 16 anni all'età mia loro sparano io sparo musica quindi siamo dei luoghi proprio differenti associazionismo e volontariato con le catacombe di San Gennaro gestite da un gruppo di giovani del quartiere Sanità bravissimi e poliglotta è difficile però poi pensi che non si spara solo alla sanità si spara in tutto il mondo in altri quartieri ci saranno giovani che vivono queste stesse difficoltà noi però siamo ancora più fortunati perché oltre alle difficoltà che viviamo quotidianamente per noi c'è un'alternativa c'è una cultura c'è una storia che possiamo valorizzare di cui ci possiamo riappropriare e costruire qualcosa sulle nostre radici e le parrocchie guidate da giovani e battaglieri sacerdoti molto spesso dice a questi giovani ma basta smettila con questa vita e loro che gli dicono? e loro mi dicono eh padre ma il lavoro me lo date voi? ed hanno ragione io credo che qui sul rione la voglia di lavorare non manchi a nessuno il fatto è che tante volte manca lo spazio dove in che modo e soprattutto che cosa fare se ci fosse lavoro forse la percentuale di delinquenza scenderebbe molto e poi ancora i centri sociali fino a questo bijou un piccolo auditorium nel quartiere Marianella a due passi da Scampia un luogo intestato al maestro Ciccarelli con il quale cominciò a maneggiare musica e in sua vita qui i ragazzi vengono a studiare a ideare a comporli Enzo è il loro padre spirituale ed ha raffinato ricercatore di suoni nuovi di contaminazioni di sound mediterraneo li invita a non smettere mai di cercare nuove strade bisogna non perdere di vista questo rapporto tra le nuove generazioni e lo studio noi abbiamo due possibilità per i fuori di vista nelle terre a svantaggio hanno due possibilità innanzitutto dedicarsi a qualcosa studiare e credere nei sogni e nelle probabilità altrimenti si prendono le pistole questo posto è interamente autofinanziato da Enzo e da quattro amici mischiare le diversità e farne melodia è la parola d'ordine ma Napoli si sa si mischia tutto a prescindere nel bene e nel male e infatti in questa processione dedicata alla Madonna dell'Arco nel quartiere di San Lorenzo Vicaria accanto alle effigie dei Santi sfilano a pagamento anche i volti in smoking dei cari estinti di rispetto del quartiere da sempre è così è una tradizione ci dicono e noi ci crediamo crediamo soprattutto che per Napoli e per la sua gente sia ancora tempo non sia sempre sto è